Buongiorno, dialoghiamo di dissoluzione della Jugoslavia. Abbiamo visto come la Jugoslavia di Tita a un certo punto si era avvicinata al mondo occidentale dopo la rottura tra Tito e Stalin. Questo avvicinamento aveva portato a un sostegno economico da parte del mondo occidentale, fatto di prestiti, di sostegni, di aiuti, di investimento. Il mondo occidentale aveva visto in questa rottura tra Tito e Stalin e il fatto che la Jugoslavia era uscita dal blocco dei paesi socialisti, aveva visto un'opportunità per creare un elemento, una crepa, un elemento di difficoltà, di disturbo, una crepa dentro il mondo socialista. E così facendo il mondo occidentale e i Stati Uniti d'America avevano ampiamente appoggiato l'economia dell'Eugoslavia e era ampiamente sostenuta. A un certo punto però questo appoggio dell'Occidente che era stato anche generoso, qualcuno dice che aveva anche drogato l'economia dell'Eugoslavia. A un certo punto questo appoggio aveva prodotto una quantità di debiti enormi. L'Eugoslavia si era pesantemente, profondamente indebitata e a un certo punto lo stesso fondo monetario aveva chiesto a Jugoslavia di rientrare da un debito colossale che la Jugoslavia aveva creato, aveva maturato. Va anche detto che negli anni 80, metà degli anni 80 e poi il mondo comunista si stava frantumando, era entrato in difficoltà, prima la presenza di Gorbaciov con le riforme che aveva fatto in Unione Sovietica, il suo atteggiamento di maggiore dialogo, poi la caduta del muro di Berlino nell'89, poi tutte le difficoltà che c'erano nei paesi socialisti. Insomma, poi col tempo il ruolo strategico dell'Eugoslavia era venuto meno, lo status quo esterno, internazionale era cambiato, questo aveva avuto degli effetti anche sul posizionamento e sull'importanza dell'Eugoslavia. A questo si aggiunge anche una grande frantumazione che si era creata all'interno del sistema politico dello Stato Jugoslavio, voluto dallo stesso titolo, d'altra parte, nel 1974 lui aveva fatto la terza e ultima Costituzione, una riforma, nella quale si concedevano ampissimi poteri agli stati locali, 8 stati locali, 6 repubbliche e 2 province, le quali sostanzialmente ormai avevano un'ampissima autonomia in tantissimi campi, soprattutto si era creato un sistema di rotazione annuale di presidenti, per cui tra questi 8, uno a turno ogni anno faceva il presidente della Repubblica federale, creando anche governabilità e difficoltà di gestire il regime, ma poi si erano fatti strada sempre di più i localismi, i localismi sempre più forti, sempre più accentuati, sempre più significativi. Ha anche detto che l'elemento unificatore che doveva essere la costruzione di un progetto socialista comune si era molto indebolito, la forza ideologica del socialismo in Jugoslavia si era indebolita. E localismi che erano anche aumentati dai grandi squilibri nella crescita economica, perché abbiamo detto di prestiti e di finanziamenti, certo, tuttavia in alcune realtà c'era stato un ampio sviluppo economico, le regioni del nord, la Slovenia, la Croazia, dove c'era crescita la ricchezza, dove l'economia era andata comunque bene, nelle regioni del sud invece, il Kosovo, la Bosnia Tegovina, nelle regioni del sud invece no, nelle regioni del sud invece la situazione economica era più arretrata, erano elementi di squilibri, di difficoltà e di povertà di alcune regioni, quelle del sud rispetto alla ricchezza di quelle del nord. Alla fine ormai le realtà locali, la dimensione locale si era rafforzata, si era enormemente rafforzata e ognuno affrontava i problemi partendo, e ogni luogo portava i problemi partendo dalla propria realtà locale, e a tutti la soluzione, o a molti la soluzione sembrava quella dell'autonomia, quella dell'autonomia e quella per certi versi di una così, di una progressiva separazione. Dove iniziarono queste proteste in modo significativo e in modo importante sarà nel 1987 nel Kosovo, dove gli albanesi del Kosovo chiesero di diventare una repubblica autonoma, erano una provincia, e di avere più autonomia. Per i serbi questo fu considerato un colpo all'orgoglio, la loro storia medievale, sappiamo l'importanza del Kosovo nella storia medievale della Serbia, inoltre tutto quella secessione sarebbe stata grave per i serbi kosovari, anche perché un'altra problematica della Jugoslavia è che c'erano questi stati locali, ma all'interno di questi stati vivevano più etnie, magari come minoranze, e quindi non era neppure facile talvolta dividerli o trovare elementi dove creare per così dire dei confini. E infatti anche in Kosovo vivevano dei serbi che si sentivano minacciati, in Kosovo vivevano dei serbi che si sentivano minacciati da questa richiesta degli albanesi del Kosovo. Ciò portò alla repressione, alla repressione della maggioranza albanese, mentre di contro, certamente per i loro obiettivi, Slovenia e Croazia appoggiarono la richiesta dei galbanesi, chiedendo a loro volta per loro stessi più decentramento. Il processo si stava sviluppando. Nel 1987 è emersa la figura di un importante politico, qualcuno dice drammaticamente importante negli avvenimenti futuri, sarà la figura del funzionario comunista serbo Slobodan Milosevic, il quale fu inviato ad affrontare questa situazione, questa problematica del Kosovo per cercare una situazione tra albanesi e serbi e trovare un punto d'incontro. Milosevic era stato un funzionario comunista tradizionale fino allora, ovvero contro tutti i nazionalismi, per una linea sovranazionale, per una collaborazione tra le varie etnie dove il socialismo era un elemento di unità, era la linea di Tito, era la linea che aveva avuto Tito e che Tito aveva così, aveva fatto, inserito, aveva applicato a quello che era il partito comunista dell'Evoslavia. Tuttavia l'autonomia del Kosovo in Serbia era sempre stato un tema impopolare, un tema visto con timore e anche con una minaccia all'identità stessa della Serbia, poi naturalmente di tutta l'Evoslavia. Milosevic comprese questo sentimento e anzi ne approfittò della situazione allontanandosi dalla tradizionale neutralità comunista sulla questione e assicurò ai serbi che il loro maltrattamento causato dall'etnia albanese in Kosovo sarebbe stato fermato. Milosevic stava assumendo una prospettiva così locale, nazionalistica, in chiave serba. Tuttavia le rivolte, le richieste di autonomia nel mondo dell'Evoslavia non si fermarono solo al Kosovo. Il 5 ottobre 1988 è esploso un'altra rivolta in Begodina che era abitata da una minoranza ungherese, la quale premeva in modo importante e significativo per essere autonoma e per una propria tutela. Si dice che 150.000 persone, tante insomma, scesero in piazza per protestare, per chiedere e chiedere e così un maggiore rispetto della loro identità e della loro autonomia. Per risposta il governo locale cercherà, il governo locale prima cercherà per risposta una soluzione, un punto di contro, un compromesso. Poi visto che non si approdava nulla, tolse addirittura l'elettricità per vedere se le proteste si fermavano, se tutto si calmava, ma questo non avvene e altri manifestanti si esero in piazza. Si dice che anche il governo centrale per rimediare alla questione inviò del cibo e che i manifestanti gettarono questo cibo contro il palazzo governativo. Insomma, la situazione era veramente complicata e andava sempre più complicandosi. Milosevic, che era presidente della Lega dei Comunisti di Serbia dal 1986, era diventato il politico più potente della Serbia ed aveva un po' assunto questo profilo di difensore della causa serba. Infatti rispose che sostenendo il sentimento nazionalista dei serbi, con l'idea che i serbi erano l'etnea più importante, quella la quale teneva in piedi tutta l'Eugoslavia. Senza di loro non ci sarebbe stata l'Eugoslavia. Il 19 novembre 1988 in una manifestazione a Belgrado, davanti a tantissimi serbi, Milosevic sostenne che la Serbia doveva difendersi, sostanzialmente contro i propri nemici. Dice che in patria e all'estero i nemici della Serbia si stanno ammassando contro di noi. Diciamo loro, non abbiamo paura, non ci tireremo indietro. E lo scontro iniziava a alzarsi di livello, a prendere corpo. Non solo, Milosevic avviò una cosiddetta rivoluzione antiburocratica che poi un po' smantellava le garanzie di autonomia e le garanzie federaliste dell'Eugoslavia, che aveva creato Tito, insediando sui suoi sostenitori in Voivodina, in Kosovo e nella Repubblica Socialista del Montonegro, dei suoi sostenitori, dei suoi rappresentanti. Veniva intaccata l'autonomia di alcune realtà, di alcuni stati dentro la Confederazione, dentro la Repubblica federale dell'Eugoslavia. A questo punto Milosevic, oltre alla Serbia, poteva imporre i propri rappresentanti ad altri tre stati, alle due province, quella che abbiamo detto della Voivodina del Kosovo e del Montenegro. E siccome i rappresentanti complessivamente erano otto, a questo punto allora Milosevic controllava quattro rappresentanti su otto. Quattro naturalmente li aveva contro. I quattro stati che Milosevic aveva contro erano la Slovenia, la Croazia, la Bosnia e la Macedonia. Insomma si era comunque creato una situazione veramente difficile da governare a tratti di ingovernabilità, quattro contro quattro. Milosevic per fare pressione per questa sua nuova linea, una linea di forza, di rottura, di reazione rispetto a quello che lui considerava appunto i nemici della Serbia, che probabilmente lui considerava anche i nemici traditori dell'Eugoslavia, iniziò con una serie di raduni, i cosiddetti raduni della verità, che erano i sostenitori di Milosevic, che riuscirono a fare rovesciare i governi locali e sostituirli con suoi alleati, facendo questo tipo di pressione. Tuttavia le proteste non si fermarono, in fondo e anche nel Kosovo non si erano mai del tutto fermate. Nel febbraio del 1989 i minatori albanesi del Kosovo, proprio sulla base di questo che stava succedendo e dell'azione autoritaria di Milosevic, che imponeva dei propri rappresentanti e dei governatori che erano a lui fedeli anche in Kosovo, detto anche in altre realtà, i minatori albanesi del Kosovo organizzarono uno sciopero chiedendo la conservazione dell'autonomia che loro consideravano il pericolo. A questo punto intervennero anche le altre repubbliche, soprattutto naturalmente le repubbliche del nord, che temevano per loro, temevano per il loro futuro ed erano quelle che più di altre sostenevano la loro autonomia, anche per il tipo di sviluppo economico che avevano avuto probabilmente. Si trattava della Repubblica Socialista di Croazia e di Slovenia, i quali sostendono i minatori albanesi e iniziarono a entrare in campo nella disputa, nella lotta contro Milosevic. I media della Slovenia addirittura paragonarono Milosevic come al dittatore fascista Benito Mussolini. Milan Kusan, che era il capo della leghe dei comunisti della Slovenia, fu accusato di contro dai media di Stato di Milosevic di sostenere il separatismo del Kosovo e della Slovenia, di essere un nemico insomma di tutto della Jugoslavia. Nel febbraio del 1989 l'albanese Vilasi, rappresentante del Kosovo alla Presidenza, fu costretto a dimettersi e sostituito da un alleato di Milosevic, perché Milosevic ormai proseguiva in questa sua politica, tra virgolette antiburocratica, nella sua visione, per la quale sostituiva i rappresentanti così considerati a lui ostili delle province dove poi riusciva a farlo. I manifestanti albanesi chiesero al contrario, reagirono subito e chiesero che Valasi fosse rimpatriato, il ritorno del loro rappresentante. Questo per Milosevic e i suoi alleati era una contro-revoluzione contro la Serbia e contro l'Augoslavia e i sostenitori serbi di Milosevic chiesero ora alle forze militari dell'Augoslavia di rafforzare la loro presenza in Kosovo per proteggere i servi. Lo scontro iniziava ad acquisire anche una dimensione militare e il livello dello scontro si stava sempre e costantemente alzando. Il 27 febbraio 1989 il rappresentante sloveno della presidenza collettiva dell'Augoslavia, Milan Kusan, vedendo la situazione, si oppose alla richiesta dell'uso delle forze militari, si oppose a queste richieste, la richiesta dei serbi, lasciando Belgrado per la Slovenia, dove da lì al contrario sostenne gli sforzi dei manifestanti albanesi che chiedevano il rilascio di Villasi. A questo punto la divisione tra le varie repubbliche e all'interno dell'Augoslavia cominciava ad essere veramente forte, veramente profonda. Di contro la Serbia denunciò Kusan come traditore, sostenitore del separatismo albanese e organizzò il mondo serbo, guidato da Milose, una grande manifestazione. Il 28 giugno 1989 nella piana dei Merni, nella piana dei Merni, la piana dei Merni è un luogo storico importantissimo nella storia dei serbi e dove i serbi hanno perso il loro scontro con i turchi, però dove hanno costruito un'identità, una loro immagine di sé. Era il seicentesimo anniversario della sconfitta della Serbia, qui nella piana dei Merni Milosevic sostenne un discorso improntato al nazionalismo serbo, fece riferimento alla storia medievale, al ruolo della Serbia e a tutti i valori che lui riteneva appartenirci al mondo serbo e quanto la Serbia aveva dato alla Jugoslavia. La risposta di Milosevic a questo punto fu che il sistema federale era diventato incompetente, la risposta all'incompetenza del sistema federale fu tale che Milosevic iniziò a mettere in campo a proporre una centralizzazione del governo e alla possibilità di uno scontro per mantenere l'Eugoslavia. I serbi avrebbero salvato l'Eugoslavia, a questo punto esplosero inevitabili rivolte in Slovenia e in Croazia, si cominciò a parlare non di autonomia ma di indipendenza, iniziava la disgregazione. Iniziava la disgregazione e questa disgregazione fu ratificata, fu chiara che era in atto forse in modo irreversibile nel congresso, al 14esimo congresso del 1990 del straordinario della Lega dei Comunisti della Jugoslavia, che era il partito al governo della Jugoslavia, dove emerse tutta la crisi della Lega dei Comunisti. Infatti la maggior parte del congresso vide lo scontro tra la delegazione serba e quella slovena, che discutevano sul futuro della Lega dei Comunisti della Jugoslavia, su posizioni antitetiche. A un certo punto la delegazione serba, guidata da Milosevic, cercò di dare più potere al gruppo etnico serbo, cioè al gruppo etnico più importante, più forte, più numeroso, cioè appunto ai serbi, come l'unica via per salvare la Jugoslavia. I croati e i sloveni di contro cercarono invece una via per riformare la Jugoslavia e per dare più potere alle Repubbliche. Insomma, si erano ormai giunti a un punto di non ritorno e a posizioni che non sembravano più conciliabili. Il 23 gennaio, tant'è vero che il 23 gennaio del 1990 la delegazione croata, guidata dal presidente Rasson, abbandonerà la delegazione slovena, guidata dal presidente Rasson e la delegazione slovena lasciarono il congresso, tutti e due lasciarono il congresso, così sciogliendo il partito comunista di Jugoslavia. Era la fine di quello che avrebbe dovuto essere l'evento di unificatore, il cemento unificatore, cioè il partito comunista di Jugoslavia. Anche per pressioni esterne poi i due partiti comunisti di Slovenia e di Croazia decisero di avviare sistemi multipartiti, sistemi multipartiti che poi si diffusero in tutte le Repubbliche. Ormai qui ogni Stato si staccava dagli altri, ma il problema ora che comincia a emergere è che le varie etnie erano confuse nei vari Stati. Non era facile ed era anzi molto difficile stabilire quali confini darsi. Nel maggio 1990 ci sarà un episodio simbolico di questa rottura, di questa disgregazione, di questi scontri con la battaglia del Maximir, dove durante una partita era uno stadio, una partita di calcio tra la Stella Rossa di Belgrado, squadra simbolo della Serbia e la Dinamo di Zagabria, squadra importantissima della Croazia, si avvennero dei scontri fisici anche sulle gradinate e poi dopo fuori dallo stadio. Era l'inizio di uno scontro, di una guerra, di uno scontro anche forte, militare, che poi sarebbe iniziato. Il dicembre 1990 la Slovenia tiene un referendum per l'indipendenza, il 95% delle persone disse sì, a metà del 91 sarà il momento della Croazia che nel maggio si dichiarerà indipendente e poi avverrà per tutti gli altri Stati, la Bosnia, la Macedonia. La Serbia invece non era disponibile ad accettare questa situazione, questa disgregazione, questa divisione e per questa ha anche la sua non disponibilità di accettare questa sua reazione, esplosero tre grandi guerre. La prima in Slovenia, la seconda in Croazia e la terza in Bosnia, in Regovina. Certo va detto che qui le violenze, i sopprusi, le uccisioni furono da una parte e dall'altra, furono guerre veramente molto dure, forse l'ultima in particolare, l'ultima di queste tre. L'unico che teneva in piedi lo Stato era stato Tito, con il suo carismo, la sua personalità e il suo passato, ma dopo di lui, però dopo di lui e forse già erano presenti anche prima, esplosero tutte le contraddizioni del progetto, del sistema jugoslavo che erano tagliano così profonde che alla fine travossero la Repubblica, la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo tutto il materiale didattico che c'è sul canale di filosofia, di storia, educazione, educazione civica. Grazie, al prossimo interno.